Novità per le ZTL nel comune di Chieti. Questa mattina sono state rese note in dettaglio tutte le specifiche per ottenere permessi con tutte le diverse categorie introdotte, orari di accesso aperti anche ai non autorizzati e l'introduzione delle telecamere che accerteranno infrazioni annunciando già toleranza zero. Attualmente ne entreranno in vigore con il sistema di rilevazione automatica, ne entreranno in vigore 4 su 6. Nei prossimi mesi poi attiveremo anche le altre. Ma non è che se non c'è la telecamera ZTL non è attiva. La ZTL funziona, esiste dal 1999 e va rispettata come tale. Per cui oggi ci sarà un occhio che ne rileva con più attenzione l'inadempienza o il mancato rispetto delle regole da parte di cittadini o di altri soggetti e ci sarà anche la possibilità di un rilevamento continuo degli accessi e quindi degli ingressi alle ZTL con le telecamere. Quello che tiene a specificare Polizia Municipale e Comune di Chieti è la possibilità di ottenere permessi per numerose categorie prima non inserite nel piano. Si potranno ottenere permessi a orari anche solo per un giorno e si potrà ricorrere ad eventuali sanatorie fino a 72 ore dopo l'ingresso non autorizzato. Con il nuovo regolamento che non è stato ancora pubblicato per cui a breve verrà pubblicato e diventerà esecutivo a tutti gli effetti prevede un accesso libero quindi per tutti quanti dalle 6 alle 8 la mattina e dalle 16 alle 18 sempre per tutti quanti. Gli altri orari invece sono previsti solo ed esclusivamente per quelli che possono essere autorizzati. Noi per i veicoli che non sono ad impatto ambientale quindi Eco 5, 4 indicato proprio specificatamente sul regolamento hanno degli orari che dalle 6 alle 8 per il carico e scarico. Gli altri invece quelli Eco ambientali naturalmente hanno invece la possibilità di accedervi in qualunque momento.